Si è svolta ieri la seduta del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, con un vasto ordine del giorno. Tra i punti approvati la sistemazione del marciapiede del tratto compreso tra la fontana di Bonamorone e l'inizio della strada provinciale, l'incremento della sicurezza di accesso carrabile ai tempi di Giunone ed Ercole, l'iscrizione al registro race della festa del mandorle in fiore, l'approvazione delle convenzioni con le università di Barcellona, Bordeaux e Florida e l'apertura di un terzo barco d'ingresso. Abbiamo avuto una riunione interessantissima, intensissima, abbiamo finito nel tardo pomeriggio ma abbiamo approvato tanti punti all'ordine del giorno, seppure con una serie di distingo e di posizione dei vari commissari, dei vari componenti del Consiglio. Abbiamo realizzato anche un punto che riguarda l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, tra cui abbiamo messo un intervento che da tempo si attendeva qui ad Agrigento, che è il completamento del marciapiede della via panoramica dei Templi, dal tratto di Bonamorone fino al tratto in cui è stato realizzato negli anni. Altre cose, abbiamo approvato la richiesta di iscrizione al registro race della festa del mandorle, ma forse la cosa più importante che abbiamo fatto, grazie a una progettazione, a una progettualità che ha presentato la direzione del parco, è quella di sistemare le aree di accesso di Giunone e l'area di accesso di Ercole, ma soprattutto quella del Tempio di Giunone, per motivi di ordine di sicurezza, perché come sappiamo le recenti vicende che ci sono state a livello internazionale ci obbligano a dover tutelare non solo i monumenti, ma anche la qualità e le persone che circolano, che stazionano in quelle aree. Quindi abbiamo fatto un progetto di livello, un progetto che si integra perfettamente con il paesaggio, che sarà anche motivo di orgoglio e garantirà la sicurezza dei nostri visitatori. Altre cose sono state fatte, sempre in maniera collegiale, abbiamo autorizzato delle convenzioni con delle università e abbiamo anche approvato un regolamento sia della foresteria, del parco, per far sì che tutti coloro che ci danno una mano, dall'università ai collaboratori scientifici che vengono a trovarci, possano avere anche un punto dove ritrovarsi, ma soprattutto abbiamo approvato un regolamento che disciplina anche la possibilità di utilizzare non solo il Tempio della Concordia, quale evento di programmazione e di valorizzazione del parco, ma anche gli altri siti che possono essere il Tempio di Oscuri, anche il Tempio di Giunone. Quindi abbiamo fatto un regolamento per regolamentare l'utilizzo di quelle aree. Per l'immediato futuro stiamo pensando al prossimo mandorlo in fiore per il 2018, insieme al Comune Agrigento, poi stiamo pensando all'iscrizione al registro dei beni immateriali, che è una proposta presentata dal parco che deve essere approvata dall'assessore ai beni culturali per il mandorlo in fiore. E poi tutta una serie di progetti riguardo le manutenzioni che ovviamente all'interno del parco sono volte a una migliore fruizione da parte del pubblico. Oltre a un possibile progetto per un terzo ingresso al parco, insomma sono tante le cose che abbiamo visto oggi e in un pieno triennale delle opere pubbliche.